Posso nascondere il mio codice Upscript dagli occhi degli utilizzatori del mio foglio Google? A differenza di un file Excel, dove il codice VBA può essere protetto grazie a funzionalità previste dallo strumento, in uno spreadsheet non esistono sistemi integrati che consentono di farlo. Ci sono tuttavia soluzioni più o meno performanti che permettono di ottenere quanto desiderato, nonché un workaround che ho trovato e che ho reso efficace con una piccola accortezza. Te ne parlo in questo video. Ciao, sono Michele e in questo video voglio parlarti di alcuni metodi che ho verificato personalmente e con i quali puoi nascondere il tuo codice Upscript dagli utilizzatori dei tuoi file della G Suite. L'ultimo è un trucco davvero efficace. Un primo approccio è quello di minimizzare e offuscare il codice dell'applicazione in modo da renderlo difficilmente interpretabile da parte di un utente. Intendo trasformare questo in questo. Esistono strumenti online che permettono di farlo in modo immediato. Tuttavia, nonostante non sia facilmente leggibile, il codice che fa girare l'applicazione può essere copiato e riapplicato così come è. Una soluzione sicuramente più efficace può essere quella di pubblicare lo script come addon, ovvero come componente aggiuntivo. Durante la fase di pubblicazione è infatti possibile selezionare il tipo di visibilità per l'addon, pubblica o privata. Nel caso di visibilità privata, la pubblicazione del componente aggiuntivo avverrà nell'arco di pochi minuti. Questo perché non è previsto il processo di revisione da parte di Google. Inoltre, il componente aggiuntivo sarà escluso dalla lista degli addon all'interno del G Suite Marketplace. In questo caso, gli utenti che hanno installato l'addon, nonostante con qualche plugin possano riuscire a risalire all'url del progetto Apps Script, non potranno accedere al codice del file, poiché quest'ultimo non è condiviso con il loro account. Ci sono tuttavia dei limiti da considerare. Se non sei un utente di un dominio, ad esempio con un account business, la modalità di pubblicazione privata non è disponibile. Puoi sempre scegliere la visibilità pubblica ed indicare a Google di non far apparire l'addon all'elenco. In questo caso però il processo di pubblicazione non lo definirei proprio immediato. Il vero inconveniente però è che componenti aggiuntivi hanno delle limitazioni che potrebbero non essere in linea con la logica dell'applicazione che stai sviluppando. Se ad esempio utilizzi con una certa frequenza dei trigger installabili basati sul tempo, il limite massimo di una volta all'ora potrebbe portarti a scartare questa soluzione. Un metodo alternativo potrebbe essere quello di pubblicare uno script come applicazione web ed interfacciarsi con essa tramite le Apps Script API o le Google Sheet API. Il concetto che sta alla base di questo approccio è quello di web service. Quando un utente effettua un'operazione all'interno di un polio di Google, viene interrogata la web app esterna, dove risiedono le funzionalità principali vere e proprie, che effettuano i loro calcoli e restituiscono il risultato per farlo apparire nelle celle del foglio di calcolo di Google. Essendo lo spreadsheet separato dal progetto distribuito come applicazione web, gli utenti non potranno vederne il codice effettivo. Soluzione sicuramente funzionante, ma piuttosto macchinosa e poco intuitiva. L'approccio a mio avviso più semplice e pratico, nonché estremamente efficace, è quello di centralizzare le funzioni in un unico file e pubblicarlo come libreria. Considerando tuttavia che per poter funzionare una libreria deve essere condivisa con l'utente utilizzatore, quantomeno a livello di lettura, quest'ultimo, nonostante non possa apportare modifiche al file, è comunque in grado di vedere il codice al suo interno. L'idea, pertanto, è quella di salvare una versione con il codice finale dello script, dopodiché rimuovere tutto il suo contenuto o sostituirlo con un codice fittizio. L'utente non avrà problemi in utilizzare il file, poiché le sue funzionalità si basano sulla versione salvata della libreria, mentre se proverà ad aprire lo script, si troverà di fronte una pagina bianca o il codice fittizio che avete inserito. Ho appurato personalmente che, per essere considerato solido, questo metodo ha bisogno di un ulteriore passaggio. Infatti, visualizzando la cronologia delle versioni dal menu file, è ancora possibile consultare il codice allo stato dei precedenti salvataggi. Ed è qui che entra in gioco il mio workaround. Semplice quanto essenziale. Ovvero, sapendo che la cronologia tiene in memoria solo gli ultimi 20 salvataggi del progetto, sarà sufficiente salvare 21 volte consecutive la pagina bianca. In questo modo, tutti i listati di ultimo salvataggio non conterranno più traccia del codice effettivo. Attenzione! Ricordati di effettuare una copia di backup del codice integrale della tua libreria prima di effettuare questa operazione, altrimenti rischi di perdere il codice contenuto al suo interno, che invece potrà esserti utile in futuro per apportare modifiche, salvarlo in una nuova versione e ripercorrere i passaggi che abbiamo visto per nascondere il codice agli occhi degli utenti. Che te ne pare? Carino come metodo, no? Se vuoi saperne di più su web service e librerie di Apps Script, ho dedicato un'intera sezione nel mio libro Punta in alto con Google Apps Script, disponibile su Amazon al link che trovi in descrizione. Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto questo video e se vuoi proporre argomenti che ritieni interessanti e che bocca aiuterati in un tutorial. Come sempre, spero di esserti stato utile. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!